Le notizie. Il Ministero della Difesa ucraino, almeno 400 i civili morti, 800 quelli rimasti feriti in Ucraina dall'inizio dell'offensiva russa. Tra loro si contano 38 bambini uccisi e oltre 70 feriti, 34 ospedali distrutti, 1.500 edifici residenziali, 200 scuole. Si precisa che si tratta di dati certamente incompleti. Dice l'Unicef, un milione di bambini fuggiti dall'Ucraina, dice Stolderberg, segretario generale della Nato, abbiamo la responsabilità di garantire che il conflitto non si intensifichi e non si diffonda oltre l'Ucraina, che sarebbe ancora più pericoloso, distruttivo e mortale. La situazione porterebbe a una spirale fuori controllo. Generale, qual è la situazione sul territorio, a quello che lei sa? La sensazione è che, non so, ieri lo chiedevo a Caraccio, gli ucraini stanno combattendo una battaglia per l'Occidente, per l'Europa, è così? Gli ucraini stanno combattendo una battaglia per se stessi innanzitutto, perché l'orgoglio nazionale ucraino vuole una sua indipendenza, non vuole che la politica esterna detti i lineamenti della politica interna. Dal punto di vista militare, quello che si sa e che si vede, si può constatare, è la grandissima lentezza dell'avanzata russa, che ha stupito un po' tutti quanti, e un qualche dubbio sulla qualità dello strumento militare russo. Abbiamo visto che l'uso di armamento di precisione è limitatissimo. Negli arsenali occidentali ormai bombe stupide non ce ne sono più, sono tutti armamenti che vanno sul bersaglio con una precisione di 2-3 metri. Qui invece i russi stanno usando materiale non di precisione, il che provoca, con quella pessima espressione, danni collaterali senza limiti, perché le bombe cascano dove il caso vuole. L'artiglieria si chiama uno strumento stocastico. C'è una certa probabilità di colpire l'obiettivo, ma gli altri colpi vanno altrove. E questo purtroppo è una caratteristica di questa campagna, che ha delle conseguenze terribili per la popolazione.